Grandi realtà, una a fianco all'altra, per il benessere dei cittadini. Questa mattina, nella sede UISP di Viale Porta Adige, è stato consegnato all'associazione Ranit un defibrillatore. L'iniziativa nasce dalla collaborazione con i supermercati Conad, che, in occasione del loro sessantesimo anniversario, hanno deciso di collaborare con le realtà sportive locali, donando loro dei defibrillatori. Speriamo tutti che il defibrillatore faccia le ragnatele e di non doverlo mai usare, hanno detto i rappresentanti dell'associazione Ranit in conferenza stampa, ma si tratta di uno strumento davvero importante. Sapere di averlo a disposizione dà una maggiore sicurezza a noi e ai nostri associati. Ora, formeremo anche del personale al suo utilizzo, così saremo sicuri al 100% per davvero. La scelta di regalare il defibrillatore all'associazione Ranit, naturalmente, non è un caso. È un'associazione che è cresciuta molto, ha raccontato Tiziano Quaglia, presidente del Comitato Provinciale UISP di Rovigo, e che si sta spendendo davvero molto per la nostra città. Basti pensare alla Rovigo in Love o alla St. Laurent Night, due eventi molto apprestati dalla cittadinanza e che hanno saputo coinvolgere sia i grandi appassionati di sport, ma anche coloro per i quali lo sport è più un hobby. Presente alla consegna del defibrillatore, anche l'assessore allo sport del Comune di Rovigo, Erika Alberghini. Un risultato importante, quello raggiunto oggi, che dimostra quanti obiettivi si possano raggiungere facendo rete e collaborando.